In questi giorni dovrebbe essere stato definito il passaggio al comune di Trieste delle aree del Porto Vecchio, oggetto di sdemanializzazione a seguito dell'emendamento inserito dal senatore Francesco Russo nella legge di stabilità 2014. Come sappiamo, il governo, tramite una delibera del Cipe, ha stanziato 50 milioni di euro da spendere nell'arco di sei anni per l'avvio dei lavori di riqualificazione del Porto Vecchio. Il finanziamento fa parte del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e precisamente del Piano Stralcio Cultura e Turismo previsto dalla delibera del Cipe numero 3-2016, delibera che inquadra il recupero del Porto Vecchio tra gli interventi di grande spessore volti al recupero di strutture dismesse e degradate di grande valore culturale. A seguito di una nostra richiesta ai sensi dell'articolo 22 della legge 241-1990, siamo venuti in possesso della scheda che ha permesso l'intervento ministeriale sul Porto Vecchio e quindi possiamo fare chiarezza sul ruolo che ha avuto Italia Nostra nell'assegnazione al Porto Vecchio di Trieste dei 50 milioni di fondi Cipe. Il Master Plan di Italia Nostra, redatto dalla nostra associazione nel 2013, è stato fondamentale in tale assegnazione. Infatti nella scheda ministeriale si indicano le linee guide del Master Plan come strumento direttorio per il Porto Vecchio e si fa evidente riferimento alla corposa documentazione che lo compone e che ne sta alla base. Nei rapporti con il ministero è entrata anche la sede centrale di Italia Nostra, comprese di posizione da parte della Presidente nazionale. In base a tutto ciò Italia Nostra chiede a norme del suo Presidente nazionale di prendere parte accanto alla regione Friuli, Venezia Giulia, l'autorità portuale del Comune di Trieste, ai tavoli tecnici che si terranno sul recupero del Porto Vecchio a motivo delle sue riconosciute competenze e del ruolo che ha avuto nell'assegnazione dei fondi Cipe. All'unico tavolo tecnico infatti svoltosi finora erano presenti la regione Friuli, Venezia Giulia, il Comune di Trieste, l'autorità portuale di Trieste ed il Ministero dei Beni Culturali. Italia Nostra e quella riunione non è mai stata invitata, nonostante il ruolo che ha avuto la nostra associazione in molte delle procedure per il Porto Vecchio e nonostante venga esplicitamente citata nella scheda di intervento allegata alla delibera del Cipe numero 3-2016. Non si capisce inoltre su quale lavoro preliminare si siano basate le scelte fatte al tavolo tecnico appena ricordato e annunciato dalla Presidente Serracchiani lo scorso settembre e con quali criteri siano stati ripartiti i fondi, trascurando i fondamentali problemi delle infrastrutture, della messa in sicurezza, della compaglidità degli interventi con il patrimonio storico. Inoltre non sono stati esposti né i criteri generali né le valutazioni delle priorità. Nella scheda di intervento numero 11 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dichiara che l'intervento sul Porto Vecchio per cui sono stati istanziati 50 milioni di euro finalizzati a restauro e alla valorizzazione dell'area prende le mosse dal masterplan elaborato a cura di Italia Nostra che si prefigge l'obiettivo strategico del recupero funzionale e strutturale dell'ambito del Porto Vecchio e aggiunge alla fine del documento che gli utilizzatori finali dovranno assumere l'impegno di attuare le previsioni del masterplan, sempre nella descrizione tecnica dell'intervento. Si dice ancora che nella prima fase di intervento si procederà con la messa in sicurezza di tutti gli edifici e che gli interventi su tutti i 34 magazzini e manufatti storici saranno di recupero funzionale secondo criteri edilizi di restauro leggero. Ricordiamo che il masterplan in cui il Ministero si riferisce ha già ottenuto il parere positivo da parte dello stesso Ministero con il MIBACT e di altri enti che si sono espressi favorevolmente tra cui l'autorità portuale, la provincia di Trieste e la direzione MIBACT-FWG. Invece la regione con la giunta Sarechiani e il comune con la giunta Cosolini non si sono invece resi disponibili né ad incontri né tantomeno ad esaminare i documenti insieme ad Italia Nostra, trascurandone sia il valore che il lungo studio di approfondimento elaborato dalla nostra associazione. Il masterplan ha una versione in inglese pubblicata e diffusa a livello nazionale. La scheda ministeriale raccomanda in particolare di rispettare la tutela architettonica stabilita nel 2001 con noti vincoli affinché l'area non diventi un qualsiasi waterfront urbano ma mantenga le caratteristiche di zona portuale nonostante il progressivo trasferimento della costruenda piattaforma logistica nelle attività connesse con i traffici commerciali nel porto nuovo. Nella stessa scheda ministeriale che riporta quasi integralmente il masterplan di Italia Nostra è previsto che nella prima fase si procederà con la messa in sicurezza di tutti gli edifici mentre non si prevedono nuove costruzioni siano limitatamente ai volumi che verranno demoliti.